La presenza di tanti tantissimi giorni è uno spettacolo di allegria, di presenza festosa, sia pure per ricordare le vittime innocenti della mafia, ma ecco con questa presenza anche allegra, anche festosa, un'assunzione di responsabilità, di impegno per continuare contro ogni forma di illegalità contro la mafia in modo particolare. È solo vent'anni che Libera si muove in questa direzione, non soltanto con manifestazioni, iniziative nelle scuole, dibattiti, conferenze, ma anche con cose estremamente concrete e produttive. Insieme contro la mafia! Insieme contro la mafia! Benvenuti alla ventesima giornata della memoria dell'impegno, il ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie. Per il Libera è stato importante accogliere anche questo lutto nella nostra giornata, infatti oltre alle vittime della violenza mafiosa ricorderemo anche le vittime della strage di Tunisi, i quattro italiani che hanno perso la vita, dei quali tre sono tre cittadini della nostra regione, del nostro territorio. Ascolteremo un lungo elenco di nomi, sono oltre 900, sono le vittime delle mafie, vittime innocenti. La maggior parte di questi nomi non li avete mai sentiti, ma è importante che almeno una volta all'anno una città si fermi, un paese si fermi per ascoltare questo lungo elenco di nomi. Ascoltiamoli tutti, perché sono nomi di politici, sono nomi di magistrati, nomi di forze della polizia, di carabinieri, sono giornalisti, ma ci sono anche e soprattutto tanti cittadini come noi. Ci sono mamme, ci sono papà, ci sono tantissimi bambini anche. Oggi ascoltandole insieme faremo sì che queste morti non siano vane. Giovanni Garcea, Mauro Rostagno, Luigi Ranieri, Salvatore Incardona, Giovanna Sandra Stranieri, Andrea Castelli, Vincenzo Vaccaranotte, Attilio Bonicosto, Babon Ceca, Malik Ndiai, Massimiliano Valenzi, Carlo Poli Ubaldo Pacia, Francesco Caldara, Orazio Conte, Antonella Sesino, Giuseppina Biella. A voi e a tutte le vittime innocenti delle quali non abbiamo ancora notizie, vanno la nostra memoria e il nostro impegno. Grazie a tutti.